ciao ragazze allora io oggi ho voluto provare i due mascara di avon tra i più nuovi allora l'ho messo su quest'occhio e uno su questo allora qui su questo qui ho messo il super shock definition ok sull'altro invece ho messo questo qui extreme mark extreme poi metterò la foto fine del video con le descrizioni di qual è il mascara insomma che ho messo qua e quello che ho messo qua quale consiglio di più questo perché questo mascara e che sarebbe in appunto il mark big and extreme allunga le ciglia molto di più rispetto all'altro infatti il super shock su di me non si vede praticamente inoltre al pennellino molto più grosso io a meno le ciglia corte vado male a metterlo e preferisco questo qui che il pennellino più più sottile vediamo se usate ogni volta la pasta storia questo qua mark big and extreme a questo pennellino qui vedete molto più utilizzabile per chi come me adesso le ciglia corte invece il super shock a questo qua questo pennellino qua che è leggermente più grosso però non mi trovo molto io vado meglio con i pennelli più sottili i pennellini più sottili quindi ripeto questo non lo consiglio questo sì quindi viva mark big and screen in the screen in the screen ciao alla prossima